La conoscenza è la prima materia, 200 metri uomini. La conoscenza è la prima materia, 200 metri uomini. La conoscenza è la prima materia, 200 metri uomini. La conoscenza è la prima materia, 200 metri uomini. La conoscenza è la prima materia, 200 metri uomini. La conoscenza è la prima materia, 200 metri uomini. La conoscenza è la prima materia, 200 metri uomini. La conoscenza è la prima materia, 200 metri uomini. La conoscenza è la prima materia.